Dieci anni di attività, dieci anni di successo per la grande struttura enogastronomica in Napoli, nata soprattutto nel settore del paneficio. Offrendo pane di ottima qualità, la struttura di Fisciano è stato il momento di rilancio per l'azienda e in un giro di dieci anni i soci hanno aggiunto alla già attività di paneficio i ristoranti dove i clienti possono pranzare, il settore della pasticceria, l'angolo dei formaggi e dei salumi e un mini market. Un esempio di innovazione che ha portato la mega struttura di Fisciano ad ambiti successi a forti traguardi. In questi dieci anni di ampliamento, diventata anche taverna, l'azienda in Napoli è riuscita ad effettuare un'operazione di marketing mix rivolta a tutte le fasce clientelari. E così il giorno 20 marzo 2015 si è svolta la grande festa della mega struttura di Fisciano dove ci sono stati diversi momenti di intrattenimento con il pubblico e di spettacolo e momenti di poter assaggiare i prodotti genuini e naturali. Alla fine fughi d'artificio che hanno incuriosito il pubblico presente e taglio del nastro che conferma legittimo allo straituroso successo dell'evento. Noi esattamente in vita siamo più di 50 anni adesso ci siamo trasferiti circa dieci anni fa anzi dieci anni fa nella nuova sede di qui a Fisciano che stiamo festeggiando stasera dove abbiamo inserito oltre alla nostra vecchia attività di panificio anche quella di pasticceria, gastronomia, ristorazione. Dieci anni abbiamo allargato giustamente la nostra produzione abbiamo allargato anche la nostra clientela per fornitura sia di pasticceria che gastronomia. Noi produciamo direttamente tutto quello che riguarda la ristorazione tutto quello che riguarda la banchettistica facciamo anche servizi di catering e servizi di feste private. Le volevo chiedere, molti clienti hanno sostenuto che il vostro prodotto è molto genuino perché voi fate anche da ristorante, fate anche da colazione tra cui i prodotti risultano il panuozzo e poi i dolci con le castagne di calvanico perché qui vicino a 3 km c'è calvanico, questa è la pura verità. Ecco, in effetti voi vi basate soprattutto sui prodotti naturali sui prodotti genuini, locali e quindi questa è stata forse la chiave del vostro successo? Indubbiamente sfruttare le produzioni locali ci permette di avere un prodotto fresco nello stesso tempo è la nostra caratteristica principale quella di sfruttare i prodotti del territorio e giustamente avere la possibilità usando materie prime di qualità di fare un prodotto di altissimo livello. Ecco, bene, voi avete molti clienti giustamente nel tempo si sono diversificati io ho intervistato diversi clienti c'è chi viene a fare il pranzo chi viene a fare la colazione chi viene a fare la cena quindi a mangiare la pizza di sera eccetera quindi in realtà il vostro segreto è stato di trasformare praticamente di offrire un servizio globale un servizio completo in modo tale che voi potevate attirare una maggiore clientela, vero? Sì, questa è stata la nostra scommessa dieci anni fa avendo affiancato alle nostre attività di pianificazione le nuove attività di ristorazione e pasticceria dove poter offrire un locale a 360 gradi dove poter fare colazione la mattina pranzo a ora di pranzo fare sia pranzo veloce pizza e la cena avere anche la possibilità di fare giustamente una buona cena Ecco, io ho intervistato alcuni clienti che hanno sostenuto maggiormente che vengono a prendere il pane quindi ecco un altro punto di forza della vostra azienda in realtà è la vostra base in pratica la domanda è questa giustamente è necessario avere dei prodotti come il pane di ottima qualità oppure come i dolci con le castagne di ottima qualità in modo tale che voi non perdete la clientela giusto? Sì, il pane è il prodotto principale delle nostre attività in quanto la nostra esperienza è oltre, ho detto, cinquantennale essendo noi la seconda generazione di panificatori che in chiave moderno hanno ampliato la loro offerta associando giustamente gli altri prodotti però facendo nello stesso modo cercando di raggiungere lo stesso livello di qualità che abbiamo sempre avuto col pane Ecco, volevo porle un'ultima domanda noi siamo in un periodo di globalizzazione voi state ottenendo successo sul mercato si parla praticamente di una globalizzazione alimentare quindi l'ingresso di nuovi prodotti anche internazionali giustamente voi cosa consigliate? Per esempio voi producete un pane di qualità cioè materie prime praticamente cosa consigliate anche ai piccoli negozi praticamente? Cioè in che modo sviluppare in pratica la loro linea anche ai negozi emergenti? Visto e considerato che c'è questa competizione internazionali su altri prodotti che vengono dall'estero? Io principalmente combatto la concorrenza dei prodotti che vengono dall'estero oppure dei prodotti che vengono venduti nella grande distribuzione con prodotti di qualità offrendo un pane con lievito madre un pane fatto con vecchie lavorazioni che si facevano una volta con materie prime selezionate non di piccoli mulini di piccole attività monitorie dove certificano la qualità dei loro ingredienti non ci rivolgiamo a prodotti di basso costo e quindi di scassa qualità ma soprattutto cerchiamo di offrire con la nostra competenza con la nostra esperienza un prodotto che riscopre le caratteristiche di una volta come stiamo usando ultimamente il lievito madre che è diventato il nostro prodotto adesso di battaglia nella nostra esattamente offerta globale siamo qui con Ugo barman del ristorante pasticceria trattoria in Napoli ecco lei da quanto tempo lavora qui? sono circa 8 anni che lavora dal 2007 quest'anno sono 10 praticamente e quindi in realtà per lei è una grande soddisfazione ecco come giudica in pratica il luogo dove lavoro prego un luogo dove poter crescere un luogo dove poter stare insieme a tante brave persone ecco siamo qui di fronte proprio al forno dove si producono in pratica pizze calzoni e c'è di fronte appunto qui abbiamo un prodotto particolare vero del forno prego uno dei prodotti di nicchia del forno è il panuozzo questi qua sono probabilmente l'impasto della pizza che viene cotto leggermente e gonfiato e farcito con quello che preferisce questo va ripassato e mangiato caldo ecco all'interno vengono inseriti anche altri prodotti certamente salumi affettati sottoli tutto quello che uno preferisce dal classico prosciutto e bocconcino al caprese ecco siamo proprio qui nella sala ristorante del ristorante di Napoli ecco tantissimi sono i clienti che vengono sì molti affezionati molti nuovi molto di passaggio cerchiamo di offrire il nostro meglio a tutte le persone che vengono da noi ma al sud alla fine a mezzogiorno cosa si mangia a mezzogiorno si mangiano da cucina tipica del posto da primi sfiziosi a secondi di carne al venerdì quasi sempre pesce la nostra pizza che rimane comunque una delle migliori della zona se mi permetto e poi i dolci in quantità in quanto la pasticceria è a pochi metri ecco ricordiamo infatti la pasticceria io volevo appunto signor Ugo fare un particolare passaggio perché qui ci troviamo tra Fisciano e Calvanico e a Calvanico si producono le castagne durante il mese invernale qui vengono venduti anche prodotti relativi al castagno che ho già assaggiato e in effetti ci sono prodotti particolari riempiti di castagne è vero? il nostro prodotto di nicchia è il calzoncello di castagna una pasta frolla molto simile a quella della chiacchiera che viene farcita con una crema quella ricetta è originaria di un paese qui in Limitrofo che si chiama Calvanico è diventato uno dei vostri punti di forza della pasticceria e ci accompagna dal mese di ottobre fino a Natale inoltrato infatti qui c'è anche il gelato al castagno è vero signor Ugo? il gelato al castagno non so probabilmente sarà in produzione l'ho già provato per la prossima estate sì probabilmente saremmo pronti per questa nuova età però come è stato questo caffè signora? prego Finemun è bellissimo è napoletano io parlo napoletano un caffè proprio da ecco dieci anni qui del ristorante in Napoli secondo lei è un grande successo? veramente sì e si vede si vede si vede che è fatto successo se no non rimaneva per dieci anni ecco lei è stata sempre un cliente è venuta sempre qui a comprare qualunque tipo di qualcosa qualunque volta sono venuto qua loro erano piccolini quando li conosco quindi si è trovata sempre bene con i prodotti cosa l'hai acquistato in genere? pane latte caffè dolci tutto 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 siamo con alcuni clienti ecco sono giovani ecco voi stiate acquistando in questo momento cosa? adesso stiamo acquistando del pane ma solitamente acquistiamo un po' di tutto dai dolci alla prima colazione al vivini andiamo al ristorante siamo proprio dei clienti fedeli ai Napoli siete fedeli perché qui si mangia bene vero? eh benissimo troppo a giudicare dalla pancia ho capito bene bene ecco dieci anni secondo lei lei che è giovane per i ristoranti Napoli in un periodo di crisi attualmente anche se giustamente l'Italia si sta elevando in un certo senso è un successo strategico sono bravi sono molto bravi in quello che fanno e le scelte strategiche appunto che hanno fatto ogni anno hanno sempre portato dei buoni risultati e sono bravi sia a collegare le scelte strategiche alla qualità dei prodotti che vendono sempre cliente del ristorante in Napoli ecco lei viene sempre qui vero? sì noi veniamo sempre perché stiamo qua vicino che lavoriamo e veniamo sempre sia la mattina a prendere il caffè sia a comprare il pane la sera qualche volta anche a mangiare dipende dai giorni ecco si è trovato sempre bene con i prodotti che compra giusto perciò viene qui al ristorante in Napoli allora sicuramente una delle cose preferite che io compro qua sono i dolci perché sono veramente buoni poi vabbè i ragazzi sono amici ormai perché ci conosciamo con tutti al bar alla cassa ci troviamo bene buonasera mi scusi lei si è trovato sempre bene qui al ristorante in Napoli vero? sempre tra l'altro ci frequentiamo spesso anche perché è un momento di ritrovo in compagnia di passaggio in realtà quali prodotti hai acquistato in genere qui? per la verità un po' servizio bar ma soprattutto pasticceria e salumeria anche anche soprattutto quando abbiamo fretta per il pranzo ci serviamo un po' voi venite a mangiare anche in trattoria in pratica vero? al ristorante sì di solito tutti sabato sera pure per la pizza una cosa sempre trovate prodotti freschi e genuini ecco bene dieci anni di successo significa che hanno effettuato delle strategie ottime innanzitutto hanno dato molta fiducia sull'attività e quindi la fiducia viene con tranquillità viene serenamente quando ci si trova sul posto un'altra cliente del ristorante in Napoli pasticceria rosticceria tutto e di più praticamente è così alla fine lei viene sempre qui per quale motivo? prego sempre a parte che quando passo di qui vengo a bere il caffè i dolci sono squisi ottimi e il pane insomma c'è di tutto si trova di tutto poi c'è il personale che è molto a modo molto gentile ecco dieci anni di successo significa che in realtà hanno saputo scegliere e sono persone molto serie sì molto hanno un prodotto eccellente vi ripeto una cortesia c'è di tutto ci si ferma il posto è quello che è quindi è un posto ecco lei della zona giustamente ecco volevo chiederle ci sono anche prodotti come il panuozzo a volte fanno nei mesi infernali i prodotti con le castagne lei li ha anche acquistati sono ottimi siamo sempre qui con un cliente del ristorante Napoli ecco buonasera secondo lei dieci anni di successo dieci anni di attività rappresentano il tasselle vincente significa che qui c'è la garanzia dei prodotti vero? sicuramente è un locale in cui si può trovare la qualità che di questi tempi è una delle cose principali penso che un esercizio commerciale debba garantire la clientela e quindi come diciamo noi ci siamo sempre trovati bene in tutti questi anni a frequentare sia l'attività di ristorazione che l'attività di vendita dei Napoli penso che anche tutti gli altri potranno trovare questa stessa qualità e il nostro auguro chiaramente è quello di continuare non per altri dicimi ma per altri 100 anni ecco in genere lei qui cosa ha acquistato? vabbè a parte chiaramente i prodotti da forno che è la cosa principale ci sono poi anche degli ottimi salumi e formaggi ricordiamo c'è proprio un angolo riferito ai formaggi e ai salumi e quindi in realtà lei ha tentato sempre di poter acquistare questi prodotti perché sono di qualità originali sicuramente poi ci sono anche cose particolari un po' più delicatessen come si può dire in questi casi un altro cliente ecco signora lei in genere 10 anni di attività cosa significa secondo lei è un successo praticamente per quanto concerne la garanzia dei prodotti vero? guardi è una garanzia enorme perché chi spende e viene e si trova bene torna e se un esercizio non vende chiude 10 anni significano che sono buoni prodotti perché torniamo sempre torniamo sempre con lei in genere qui cosa ha acquistato? guardi io compro il pane la mattina faccio colazione la sera vengo certe volte mi mangio la pizza siamo veramente clienti a 360 gradi secondo lei cosa ne pensa di questi 10 anni dell'attività di Napoli? è un'attività bellissima è una fortuna quindi con lei qui cosa ha acquistato in genere? cosa? cosa ha acquistato? di tutto di tutto con alcuni clienti del ristorante di Napoli 10 anni rappresentano il tassello vincente per poter rappresentare la garanzia dei prodotti secondo lei è vero o è falso? è vero è vero 10 anni di esperienza sicuramente si vede con 10 anni di esperienza in genere lei cosa ha acquistato qui? vengo a fare colazione qualche volta a pranzo e il caffè almeno 5-6 volte al giorno bene invece lei 10 anni di attività cosa rappresentano secondo lei? sicuramente una vittoria per loro per la loro gentilezza comunque i prodotti la qualità è un grande trionfo bene lei è venuto a mangiare a pranzo a fare colazione come si è trovata? no mi sono trovata bene i prodotti sono di qualità la gentilezza degli impiegati che lavorano qui e dei proprietari quindi ok grazie ecco signora secondo lei 10 anni di attività sono davvero un successo per un'azienda secondo lei è stato determinato questo successo dalla garanzia dei prodotti vero? certo certo sono affidabili al 100% io c'ero 10 anni fa e sono anche adesso lei conosce il fatto che quest'anno in Napoli 10 anni di attività ecco lei è stato sempre un cliente vero? si 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 è sempre trovato bene? sempre che cosa rappresentano secondo lei per i Napoli questi 10 anni di attività? ecco lei è venuto sia a cenare che a pranzare? tutto 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 venuto a acquistare da non da 10 anni da 50 anni ecco e quindi alla fine lei si è trovato sempre bene? bene massimo rispetto massima cortesia sia da parte dei dipendenti che di tutto grazie siamo qui con alcuni amici dei clienti dell'istorante Napoli ecco da 10 anni davvero sono un grande successo per il ristorante trattoria pizzeria pasticceria in Napoli qual è la sua opinione in merito? confermo esattamente quello che hai detto dal pane al a quello biscottato dai dolciumi veramente è un onore per noi che siamo di lancusi diciamo ecco secondo lei volevo chiederle è un successo in genere lei ha pranzato ha fatto colazione ha fatto cena a dire il vero poiché io lavoro a Roma durante la settimana quindi sono venuta alcune volte per fare l'aperitivo la domenica mi sembra soltanto due volte ho pranzato e devo dire la verità che è stato ottimo Sira ecco in genere lei viene qui ad acquistare i prodotti vero? cosa ha acquistato in genere? essenzialmente pane perché il pane molto è l'altro lato ottimo è originale è genuino genuino buono diciamo che in realtà nei ristoranti di Napoli in un certo senso sono un made in Italy cosa ne pensa lei? eh da sicuramente valorizzare perché hanno il forno producono pane quindi in realtà rappresentano effettivamente un made in Italy sì e infatti per questo valorizzare acquistare quello che viene prodotto dalle nostre parti a chilometro zero ricordiamo che loro producono durante il periodo infernale anche i dolci con le castagne quelle di Calvani che quindi riescono a realizzare anche i dolci e poi fanno anche il panuozzo che sembra un prodotto locale qual è la sua opinione? ma secondo me è più buono il panuozzo sempre vabbè lei forse preferisce il panuozzo invece preferisce i dolci quindi dico le castagne vabbè i dolci con le castagne la ringrazio molto gentile com'è il prodotto? prego il prodotto è ottimo vero? intanto c'è il nostro Gerry DJ domani ho partecipato all'ultimo all'ultima isola dei famosi insieme a Rocco Siffredi è buono per lei è ottimo bene bene è tutto ottimo qui presso il ristorante trattoria pizzeria pasticceria in Napoli cosa ha provato lei? è tutto a parte che siamo clienti tutto ottimo rustici sette panini è una cliente è vero? si affezionata affezionata qui cosa viene a acquistare in genere? pane, dolci di tutto cose rustiche è tutto è ottimo il prodotto molto buono vero? molto buono siamo qui con i clienti dei ristoranti Napoli ecco dieci anni di attività sono il successo per il ristorante pasticceria rosticceria trattoria Napoli qual è la sua opinione? beh io all'inizio quando sono venuto qua ero un poco meravigliato ma poi dopo ci siamo abituati a questo tipo di trattamento perché in effetti qua troviamo un po' di tutto dal bar dalla rosticceria dalla pasticceria dalla solmeria per cui in effetti si racchiude tutte le necessità di un soggetto e ma a dire la verità ci siamo abituati a questo tipo di ecco lei viene per il ristorante per la colazione o per la cena? ma a dire la verità vengo anche per la pizza vengo per per il caffè vengo per il cornetto vengo per comprare la mortadella in effetti guarda è comodo in effetti uno che non ha molto tempo viene qua e trova un po' di tutto in effetti è un locale completo ma la priorità di questo locale se mi posso permettere secondo il mio punto di vista è la qualità del materiale della roba che si compra oggi è difficile trovare io posso constatare che è di buona qualità in effetti tutto dal caffè ai cornetti ai salumi è veramente ottimo ecco abbiamo un altro cliente che ha acquistato altri prodotti buonasera ecco i ristoranti in Napoli festeggiano dieci anni ecco secondo lei è un grande successo sì gli auguro altri cento grazie lei ha acquistato forse il pane vedete sfornato vero lei viene qui per il pane che è di grande qualità no anche per altre per fare colazione si trova molto bene si è comodo e prodotti di qualità Samira a Caundi ecco nelle immagini ecco l'organizzazione di questo evento da un punto di vista gastronomico è anche spettacolare in che modo viene gestito prego allora i dieci anni di questa attività ben noti ormai sono stati gestiti in maniera artistica abbiamo voluto donare alle persone al pubblico sia una parte artistica gastronomica musicale poi ci saranno i due per duo in fine serata tutto questo per onorare questa bellissima attività molto conosciuta ormai nella zona e nella valle dell'Irno bene giustamente è difficile la gestione dell'organizzazione vero ecco quali sono giustamente i punti critici per organizzare un evento di questo tipo allora la gestione diventa difficile quando non si ha uno staff sufficiente e ben organizzato noi abbiamo uno staff qualificato professionale che gestisce gli eventi come questo in maniera professionale anche ed eccellente in modo tale da garantire al pubblico che ci segue ai nostri clienti professionalità e anche da un punto di vista artistico la bellezza poi quali sono gli elementi giustamente che racchiudono la vostra gestione in questo caso per l'inaugurazione dei ristoranti Napoli gli elementi come dicevo prima sono dati da uno staff ben organizzati dalla competenza dalla competenza degli artisti che fanno questo lavoro ormai da anni da me che comunque gestisce l'agenzia ormai da più di tre anni nel territorio salernitano però noi lavoriamo un po' su tutto il territorio nazionale e quindi possiamo affrontare tutto in maniera qualificata ed eccellente spieghiamo un po' la serata come sarà suddivisa allora la serata sarà suddivisa in vari step i primi step dedicati un po' ai bambini la parte artistica ci saranno i clown giocolieri mascotte funambule poi ci sarà lo spettacolo del fuoco e poi in una parte musicale dove ci saranno niente di meno swing bang un'orchestra swing molto molto bella e in chiusura prima del taglio della torta e del saluto dei napoli ci saranno i due per due da made in sud dom